Le città d'arte, piccoli borghi, ma soprattutto mare e montagna, boom di presenze per l'estate 2017 in Toscana che crescono del 4,1%, qualcosa come 1.800.000 turisti in più. E sulle nostre spiagge tornano anche gli italiani che quest'estate hanno deciso di passare le vacanze in Toscana con una crescita del 4,8% e del 6,1% in montagna. Questo è lo scenario che emerge dall'indagine condotta per conto di Toscana Promozioni Turistica da SLA tra le 15.000 strutture ricettive attive sul territorio regionale. Ma dopo l'amento delle presenze la sfida adesso è quella di allungare i risultati verso la prossima stagione. Quello che serve, che lo sottolineo, è la continuità degli effetti. Significa che le aziende hanno la certezza di operare in un campo che ha un futuro e che, se adeguatamente supportato anche dalle politiche regionali e nazionali, merita gli investimenti. Investire in turismo in Toscana è premiante. Farlo significa mettere nel sistema dell'impresa, perché poi di questo si tratta, di fare impresa, a margini di rischio modesti e una ormai quasi certa possibilità di ritorno e di remunerazione degli investimenti. Crescono i fatturati, dopo anni di crescita del turismo, ma di difficoltà dei fatturati, hanno ricominciato a crescere anche i fatturati delle imprese. E ci immaginiamo che anche il settembre, l'ottobre, possano essere mesi con buone soddisfazioni. Un altro elemento qualitativo molto interessante è che nella stagione alta sono i prodotti consolidati, i prodotti tradizionali, quelli che vanno più forte, e quindi ovviamente il mare e le città. Mentre avevamo già notato come nelle stagioni di spalla sono le nicchie, e quindi per dire la francigena o il cicloturismo, che prendono più peso e perché sono un elemento importante della diversificazione del prodotto regionale. E nell'anno dell'estate record per il turismo italiano, la Toscana si conferma metamata dai viaggiatori internazionali come tedeschi, francesi, olandesi, belgi e svizzeri. Grazie 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 Grazie